Addio per una pazza notte alla sua chioma fluente e biondissima, Costanza Caraccelo si traveste da eroina dei videogames, per presentare a Milano Halo 4, il quarto episodio di uno dei videogiochi più famosi al mondo. L'ex velina, compagna di Federica Nargi, non solo a striscia la notizia ma pure a Pechino Express, con la tutina aderente super sexy e il caschetto blu elettrico si sente a suo agio. Io sono molto legata a questo personaggio perché Cortana come sapete ha un'intelligenza artificiale ma è una combattiva, io nella vita lo sono molto, per cui sono molto legata e poi comunque aver avuto questi panni addosso mi ha fatto riferire.